Per me è un onore, posso darvi un abbraccio? Perché quando ti ho visto a Sanremo, cioè i miei occhi proprio hanno grondato l'acqua, hai un trasporto, trasmetti qualcosa, diriamo Dio, che è una cosa che stai oggi, ma anche di Storgi Marche sono state, proprio perché la mia impronta artistica, io vivo di arte. Quindi mi faceva piacere farti questo omaggio, vi approccio alla mia dedica, poi con calma, leggera, perché dirti grazie per tutte le emozioni che ci stai dando e un grande contributo per la tua carriera futura. Grazie. Grazie a te. Grazie a te, se possiamo. Grazie, forse ti ho fatto qualche tiro di più, scusa.